Siamo barzaghesi e siamo orgogliosi di esserlo. In queste settimane vi abbiamo raccontato la nostra idea di futuro per Barzago. La Barzago dove ognuno di noi vorrebbe far crescere i propri figli e i propri nipoti. Una Barzago che continua ad essere a misura d'uomo e con spazi verdi curati. Le nuove aree dove i ragazzi possano divertirsi e giocare in sicurezza. Lavoreremo affinché il nostro paese sia sempre più sicuro e vi si possa vivere con serenità. Una sempre migliore qualità di servizi per le famiglie e gli anziani. Un aiuto concreto e mirato a chi da solo non ce la fa, perché da sempre siamo una comunità solidale che non lascia indietro nessuno. Un centro civico più bello, una scuola più moderna e più sicura, un centro sportivo con più servizi. Vogliamo continuare a creare momenti di aggregazione per i barzaghesi, piccoli e grandi, perché nessuno si senta solo. Vogliamo un paese aperto al mondo del lavoro, alle aziende, ai commercianti, agli artigiani e anche a chi un lavoro lo sta cercando. Questa è la mia lista, questo è il mio gruppo, queste sono le nostre idee per la Barzago del futuro. Vi chiediamo di votare la lista numero uno, il paese Barzago, giorno per giorno. Grazie. Grazie.